La vita è sogno? La vita è sogno, sì, è uno dei temi principali del Pedro Calderon della Barca, che è lo scrittore della pièce, che fa riferimento proprio a questo parallelismo che c'è tra la realtà e il sogno. Infatti, secondo l'autore, è sogno tutto ciò che ha una fine, essendo la vita finita, anche la vita quindi è un sogno. Per cui ciò che decide di sottolineare è che nonostante anche la vita possa essere o meno un sogno, è bene comportarsi nella maniera migliore, perché comunque è tutto un ciclo e quindi tutto torna. Qual è stata l'esperienza di questa preparazione, di questa giornata? Diciamo che è un'esperienza lunga mesi. Noi abbiamo iniziato quest'anno intorno a dicembre, poi iniziano la parte di memorizzazione del testo, dopodiché si inizia a mettere in scena le varie parti e solo verso l'ultimo periodo si riesce a vedere un po' l'insieme dell'opera e quindi come effettivamente risulterà. In fase di adattamento e riduzione del testo abbiamo deciso di introdurre quattro nuovi personaggi, non previsti nell'opera originale. Praticamente dei quattro personaggi principali abbiamo introdotto quattro alter ego, che rappresentano un po' la parte interiore dei personaggi, quindi il pensiero, le emozioni, i sentimenti. E durante l'opera si vedrà che ci sarà un'evoluzione del rapporto tra i personaggi principali e proprio alter ego. E per vedere quali saranno le modalità e gli esiti di questa evoluzione vi aspettiamo il 6 sera alle 21.30 a Villa Tiguglio. È tutto pronto per martedì? Sì, sì, è tutto pronto. Diciamo che abbiamo ancora la prova generale che metterà forse in luce i difetti, ma andiamo oltre quelli perché il lavoro fatto è ancora più interessante. A noi interessa più che la rappresentazione finale l'esperienza di tutto l'anno. Aggiungo che il nostro lavoro è sempre sostenuto dall'ufficio della pastorale giovanile di Ocesana e il Vescovo da lontano ci guarda con molto affetto.